Sono Cino Zucchi, architetto milanese ma un po' torinese d'adozione, mi è capitato che avrà qua e amo questa città sempre di più, stamattina passeggiando sotto i portici. Trovo che Torino, anche rispetto a Milano, abbia uno strano insieme di understatement della generazione più vecchia e l'underground di giovani che nella fotografia, nella musica, nelle arti, sono veramente le avanguardie. La bellezza di Torino è fatta dalla sua struttura urbana, dai portici, dalla maglia regolare ma anche dalle colline e le montagne che si vedono sullo sfondo. Questa condizione che mette insieme un'urbanità quasi modello, proprio con le cose che stanno insieme in una struttura forte, invece la natura dietro è secondo noi la chiave di un nuovo modello che vuole rimettere insieme tutti i nostri concerns, le nostre preoccupazioni nei confronti di un ambiente sempre più in pericolo e la riscoperta di un'urbanità, della intensità della vita urbana, della capacità che la città di porre in relazioni le persone anche diverse. Le città sono sempre state un crogiolo di dialogo tra persone e civiltà diverse. Oggi la città europea può esprimere e può guardare se stessa con una visione diversa che tiene tutto il suo codice genetico profondo. Pensiamo a Parigi, quando uno va a Place de Vosges, au Jardin de Planck, la qualità ambientale del verde integrata invece a un disegno urbano forte, in un'epoca dove spesso il mito di una natura buona porta quasi a un nuovo disurbanesimo. Questi ragionamenti sullo sfondo, perché poi stiamo riscoprendo che la città è anche dal punto di vista dell'energia molto più ecologica, potremmo dire che suburbio, e costituiscono lo sfondo comune di un progetto molto specifico, che è quello per la cavallerizza di Torino. È un caso incredibile come uno spazio così centrale, oggi in condizioni di abbandono, può diventare un nuovo luogo per gli studenti, per i visitatori, per la rete di attività culturali che Torino ha intorno al centro. Tutte queste condizioni sono lo sfondo del nostro progetto. L'idea è quella di guardare molto bene un edificio, un complesso edilizio, e l'osservazione della cavallerizza porta a capire quali sono le parti più strutturate e quali invece sono le parti che hanno più possibilità di cambiare. Dentro la struttura dei spazi aperti, che è quella che è nota come Piazzetta Fratelli Vasco e Passaggio Chiablese, che collegano Via Verdi e Via Rossini e hanno la potenzialità di arrivare ai giardini, l'idea è quella di dare una grande qualità attraverso lampioni, sedute, nuovi ingressi e le varie attività, per cui tenendo un impianto così com'è, arricchire di molto la qualità ambientale e i spazi aperti, e questi spazi aperti diventano il common ground, il terreno comune dove le varie parti del complesso dialogheranno.